Un po' di tempo fa, più o meno quest'inverno, è stata impostata una data per Luigi's Mansion 3 che era il 19 luglio, solo che con le 3 questa data è stata smentita, però adesso potremo avere una data un po' più sicura. Attenzione, sto leggendo con la notizia sul sito che potete trovare in descrizione, quindi... Vabbè, Luigi's Mansion 3 è stato tra i protagonisti delle 3, come abbiamo visto, e ha avuto anche un grande approfondimento nelle prime due parti del 3 house, che qui nel primo hanno approfondito la parte dell'hotel, nel secondo della torre del caos. Nintendo è rimasta priva di una data di pubblicazione precisa, tuttavia quest'ultima potrebbe essere stata svelata per errore dalla divisione messicana di Amazon, quindi grazie a Amazon del Messico potremmo avere una data precisa. Continuo a leggere. Su Amazon del Messico, riporti a una data di uscita precisa corrispondente al prossimo venerdì 4 ottobre. Sì, prossima data svelata per sbaglio, da quanto ho letto qui, vi lascio sotto il link in descrizione, vi lascio sotto il link in descrizione, potremmo essere durante la vera data di uscita questa. Ma vabbè, non è ancora sicuro, ovviamente lo sapremo soltanto quando Nintendo ce lo farà sapere, perché per il momento sembra che Nintendo ha detto che il gioco non è completo, cioè almeno i sviluppatori non sono pronti a dare la data, perché vogliono farlo perfettamente. Quindi vedremo, vedremo se sarà questo 4 ottobre. E leggendo su una notizia su eShop, adesso vi ho fatto vedere l'immagine, Luigi's Mansion 3 è pianificato per il quarto trimestre del 2019, cioè settembre, ottobre, novembre e dicembre. Beh, potrebbe essere vera, e poi siamo nel periodo di Halloween, quindi non è tanto vera, però potrebbe anche essere vera. Quindi signori, non sappiamo se è la stessa italiana, ma comunque, noi ci diamo con una prossima news, ditemi che ne pensate della nuova copertina della Luigi's Mansion 3 indagine, noi ci diamo a un prossimo video. Ciao a tutti!